Questo video riguarda i migliori 3 saune facciali. Il vincitore della qualità è il Mistream Spa Sauna Facciale. La sauna facciale è un inalatore di vapore professionale, casalingo e facile da utilizzare. Stanchi dei suffumigi con la pentola e il panno. Dopo aver versato dell'acqua nella sauna e averla fatta riscaldare per 3 minuti, regolando la temperatura tramite l'apposito tasto, avvicinate il viso al bordo della sauna facciale, senza appoggiarlo all'apparecchio per evitare scottature, e godetevi un calore rilassante. Il vapore delicato di Mistream è adatto anche per aprire le vie respiratorie e sciogliere il muco, prevenendo così il raffreddore e alleviando le otturazioni dovute a forme influenzali. Combinatelo con gli oli essenziali mearome per un risultato ancora più efficace. La marca parigina che vi propone delle soluzioni do it yourself nel mondo della bellezza, del fitness e del benessere. La nostra missione è garantirvi dei prodotti di qualità, risparmiando tempo e denaro. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bepper Sauna Facciale. Sauna facciale pensata per effettuare trattamenti curativi e rilassanti comodamente da casa, senza doversi recare in una spa o centro benessere. La sauna facciale è dotata di un pulsante regola vapore che gestisce le tre velocità. Inoltre, è fornita di un tappo regola vapore per ottenere l'intensità in base al tipo di trattamento desiderato. Nella ciotola di evaporazione antiaderente, consigliamo di aggiungere qualche goccia di olio essenziale per ottenere sulla pelle un effetto purificante e rigenerante immediato. Grazie alla tecnologia avanzata dello spray nebulizzatore, si adatta a tutti i tipi di pelle, pelle secca, grassa, pelle mista, normale, pelle sensibile, a tendenza acneica e pelle maschile. L'apparecchio dispone di un sistema di arresto in caso di surriscaldamento. Il vincitore del premio è l'Umi Vaporizzatore Facciale. Questo dispositivo per la pulizia del viso combina un elemento riscaldante convenzionale con tecnologie di vaporizzazione per creare un vapore nanoionico pulente con particelle di acqua a carica negativa, in grado di penetrare la cute con un'efficacia 12 volte superiore. Il vapore caldo e rilassante apre i pori ostruiti e deterge in profondità rimuovendo sporco, trucco, comedoni, punti neri e altre impurità, dandoti una pelle più radiosa ed elastica, perfetto da usare insieme a dispositivi per la rimozione dei punti neri. Prepara la pelle permettendole di assorbire più sostanze nutritive quando si usano lozioni e altri prodotti per la pelle, adatto a pelli normali, secche, grasse o sensibili. Oltre a essere perfetto per pulire il viso con il vapore, il prodotto è anche utilizzabile come vaporizzatore e umidificatore. Con singolo pulsante, veloce e facile da usare, forma affusolata con bocca a fiore elegante, ottimo come regalo per amici e famiglia. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.